Non ho parole ragazzi, non ho parole, sinceramente non ho parole, non ho parole. Io fino a questa mattina ero sicuro che Vladimiro Falcone non fosse nei piani della Sampdoria per controriscattarlo, ma allo stesso tempo pensava ad un'operazione mirata a guadagnare sopra. Ma ora non ho parole perché Vladimiro Falcone, ora ufficiale, è stato controriscattato dalla Sampdoria. Anche lui, quindi, saluta il Salento dopo una stagione fantastica, una stagione bellissima. Sinceramente ragazzi mi dispiace tantissimo, mi dispiace tantissimo. Perché io fino a questa mattina avevo notizie certe che Vladimiro Falcone non fosse stato controriscattato dalla Sampdoria. Ma ora è arrivato il comunicato ufficiale del club Rigure, che controriscatta il portiere che in questa stagione ha vestito la maglia del Lecce. Per questa operazione, sinceramente ragazzi, non ho parole. Non ho parole perché ok, il controriscatto di Colombo mi è passato. Perché Colombo in questa stagione sì, era giovane, un giovane sordiente in Serie A, però poi non ha fatto così bene. Quindi non è che sono contento perché il Milan se lo sia controriscattato, ma diciamo che non mi dispiaceva il controriscatto di Colombo. Mentre per Falcone, sinceramente, mi dispiace tantissimo. Tantissimo perché è stato il giocatore che nella nostra rosa non ha saltato una partita. È stato il giocatore che ci ha salvato tantissime volte, in tantissime occasioni. E sinceramente mi dispiace tantissimo, mi dispiace tantissimo. Io ripeto, per tutti quelli che mi seguono su Instagram faccio un appello. A me stamattina, dalle fonti che ho io, mi risultava che Falcone non venisse controriscattato dalla Sampdoria. Ecco perché l'ho riportato. Ora non mi scrivete, non mi inondate di messaggi. Ma perché dici cose false, dici cose false, ma non hai fonti sicure. Ragazzi, nel calcio mercato può cambiare tutto da un momento all'altro, da un minuto all'altro. In questione pure di secondi, da un secondo all'altro può cambiare tutto. Quindi, ragazzi, la Sampdoria a me risulta che non abbia fatto neanche l'iscrizione al campionato prossimo di Serie B. Quindi questa è un'operazione mirata a monetizzare ulteriormente sul cartellino di Vladimiro Falcone. Perché? L'ho contro riscattato. Ora non so se Falcone, vista la stagione, visto l'esplosione, la sua esplosione in Serie A, se resterà alla Sampdoria. Io credo proprio di no, ragazzi. Sinceramente io credo che al 99,99% delle possibilità, Vladimiro Falcone non resterà alla Sampdoria in questa stagione. La Sampdoria ha fatto quest'operazione per guadagnarci sopra. Quindi tutta questione di cash, di soldi. Quindi, dicevo, è un'operazione veramente che mi ha sbalordito. Sinceramente non me l'aspettavo. Mi ha cambiato un attimo la giornata, ora perché mi sono arrivati tanti messaggi. La Sampdoria l'ha contro riscattato, c'è il comunitato ufficiale. Io non ci credevo, ragazzi. Vi porto questo video un po' come sfogo, che poi non è sfogo perché io, quando posso, mantengo la calma. Mi parlo con calma, però un pensiero che posso fare è che questa è stata un'ulteriore plusvalenza che Lecce ha fatto. Perché come ribadiva Pantaleo Corvino per Lorenzo Colombo, appunto l'altro giorno in conferenza stampa, da Colombo, giocatore pagato zero, a Trinchiera risultava che appunto Colombo venisse contro riscattato dal Milan. Così è stato, è arrivato il comunicato ufficiale questa mattina o ieri sera, ora non ricordo bene. Stessa cosa è arrivata per Vladimiro Falcone. Quindi Lecce ha monetizzato quasi un milione e sette da Colombo, un milione e cinque da Falcone. Quindi comunque sono soldi che serviranno per ripartire, serviranno per ripartire. Ora siamo in cerca di portiere e attaccante rispettivamente, quindi ora il calci mercato entrerà nel vivo. A me sinceramente dispiace, ragazzi. Falcone mi era affezionato tantissimo, mi era affezionato tantissimo, mi dispiace tantissimo. Veramente non trovo le parole oggi per continuare questo video. Ragazzi io vi ringrazio per aver visto questo video, mi raccomando iscrivetevi tutti al canale, perché vedo dalle analytics di YouTube che circa il 90% delle persone che vedono i miei video non sono iscritte, quindi iscrivetevi ragazzi. Lasciate un bel like qua sotto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io sinceramente non ho parole e mi dispiace tantissimo di questo contro riscatto da parte della San Futuro. Auguro ovviamente a Vladimiro Falcone le migliori fortune per il futuro, un buon proseguo di guerriera e spero che ritorni a Lecce un giorno. Ora da vedere con il calcio mercato come si metterà la cosa, sicuramente ragazzi sarà difficilissimo riportarlo a Lecce. La sua volontà era quella di restare a Lecce, l'aveva detto anche in un'intervista recente, però sappiamo che con questo contro riscatto era così. Ragazzi, grazie mille a tutti e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando restate aggiornati in questi giorni, non mi sono fatto sentire, ma presto arriveranno dei video, quindi restate aggiornati. Ciao ragazzi!